rise spoon il nuovo spoon di casa raptur destinato al mondo dell'area trout e la pesca ultralight le caratteristiche di questo ondulante sono specifiche per cercare le trote quando stazionano a mezz'acqua quindi quando sono abbastanza in attività che sono in giro per i vostri laghi dove i vostri spot che frequentate quindi questo sicuramente nei recuperi normali oppure con delle piccole pause dovete cercare i pesci che si azionano a mezz'acqua munito di amo singolo con l'ardiglione moschettone e snap di sicurezza doppia tonità di colore tra dorso e ventre un artificiale che sicuramente regalerà a tutti un sacco di emozioni grazie a tutti